Questa mattina il comparto del mondo del trasporto, autonoleggio, federnoleggio e tante altre associazioni si sono riunite per poter dimostrare con correttezza ed educazione una manifestazione di dolore perché stanno fallendo. Ti ringrazio perché se n'è andato è venuto qua a chiederti scusa, non ti ha trovato. Questi signori pagano 5.000 euro al mese di leasing per ogni autobus che non si possono permettere di pagare e il governo non ha attivato la moratoria per bloccare sia mutui che leasing. Hanno bisogno di poter avere rispetto dal governo centrale e sostegno dal governo centrale perché se no questo è un comparto che è costretto a morire, è un comparto che dà oltre 10.000 posti di lavoro per 4.500 autobus nella nostra campagna. Grazie. 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 Grazie a tutti.